Soltanto Golden fuori, si va agli ordini dello start, tutto è pronto. Afkri, Frozen, Carol Blizzard, poi ripiegano niente saccio Gemma Dell'Ulmo e Golden Regular con Afkri contro Carol Blizzard. Carol Blizzard che forza per andare in vantaggio ai lati di Afkri, poi Frozen con di fuori Cruciverba. Carol Blizzard preme su Afkri, per il momento dice no all'attaccante. I due si sono avvantaggiati di qualche lunghezza da Cruciverba, Frozen, Gemma Dell'Ulmo, niente saccio in coda Golden Regular. Sfonda Carol Blizzard prima dell'ingresso nel bosco su Afkri, terza posizione Frozen con all'esterno Cruciverba, poi Gemma Dell'Ulmo, niente saccio in coda Golden Regular. Afkri segue le mostre di Carol Blizzard, poi Frozen, Cruciverba, niente saccio, Gemma Dell'Ulmo, in coda Golden Regular quando si va all'intersezione delle piste, 600 metri. Carol Blizzard, Afkri, Frozen, Cruciverba, niente saccio, Gemma Dell'Ulmo, Golden Regular, 600 dal palo. Vediamo gli sviluppi. Carol Blizzard e Afkri alle prese, poi Frozen con all'esterno Cruciverba, niente saccio con all'esterno Golden Regular e Gemma Dell'Ulmo, con Afkri che torna in vantaggio su Carol Blizzard. I due rincorsi da Afkri, poi all'esterno da Cruciverba e Golden Regular, sempre alle prese. Afkri e all'interno Carol Blizzard che prova a rientrare, poi Frozen, poi Cruciverba, poi Golden Regular. I due davanti si raggiocano, Carol Blizzard contro Afkri, Afkri che è in leggero vantaggio su Carol Blizzard, passa e vince Afkri su Carol Blizzard e Frozen. 1-5-2 è l'ordine d'arrivo, vittoria di Afkri che alla fine ha preso la meglio su Carol Blizzard e per la terza moneta è rimasto Frozen che è rimasto all'attesa, non è riuscito a progredire e quindi ha vinto ancora Afkri. Per il momento 1-5-2 dalla postazione centrale è tutto.